a rischio i mercati a rischio bitcoin oppure ci stiamo trovando davanti ad ottime opportunità per continuare i nostri accumuli in questo video vediamo cosa è successo la scorsa settimana su bitcoin e cosa aspettarci invece per questa settimana quindi direi di lanciarci a capofitto sui nostri grafici qua siamo su bing x ah ecco prima che mi dimentichi meglio dirvi questa promo perché è una promo molto interessante che ci ha dedicato bing x alla nostra community per chi non si è ancora registrato e per chi si è registrato ci sono due promo diverse per chi non si è ancora registrato qua sotto lascio il link di registrazione a bing x si possono ottenere fino a 3950 dollari di bonus di trading più 20 milioni di pepe allora scorrendo vediamo ci dice che cosa bisogna fare bisogna fare la verifica dell'identità e ci danno 100 dollari bonus deposito in questo caso se deposito almeno 100 dollari ricevo altri 50 dollari di bonus di trading poi c'è sui volumi di trading quindi se faccio trading per 20 mila dollari totali prendo altri 100 dollari usdt di bonus se poi arrivo a 100 mila altri 100 e così via insomma qua ci sono tutti i dettagli fino al totale che abbiamo detto su qua ci sono le regole dell'evento ricordo che scade il 31 di agosto quindi c'è fino a fine mese per ottenere il premio poi qua ci dice perché scegliere bing x conforme alle norme insomma tutto quello che ne consegue è un ottimo exchange io l'utilizzo da diverso tempo è un ottimo exchange ti lascio quindi questo link qua sotto se non ti sei registrato questo è il primo link clicchi accedi iscriviti ti iscrivi con il mio codice che anch'esso ti lascio qua sotto così ottieni questa questa promo qui il secondo invece è per chi si è già iscritto quindi per chi ha già un account di bing x ci sono vari pacchetti a seconda di quello che si fa quindi di nuovo depositi 500 usdt ti danno 50 usdt di bonus di trading depositi 1000 te ne danno 100 depositi 2000 te ne danno 150 e così via a seconda di quello che vai a depositare ti vengono dati dei bonus fino a 5000 dollari come possiamo vedere qui dipende poi chiaramente da quanto si deposita in entrambi i casi quindi sia che siamo già iscritti sia che ci iscriviamo i bonus dati non sono bonus prelevabili sono trading bonus cioè dei bonus che possiamo utilizzare per aprire delle posizioni i profitti generati da quei bonus invece li possiamo prendere esempio abbiamo 5000 dollari di bonus perfetto apriamo delle posizioni utilizzando quei trading bonus se perdiamo perdiamo il trading bonus semplicemente quindi i nostri soldi non vengono toccati ma se vinciamo vinciamo in termini di profitto rispetto quel bonus che abbiamo abbiamo ottenuto e quindi sono dei bei soldini gratis che male non fanno arriviamo a questo punto alla nostra analisi nella nostra analisi direi di partire dal grafico vediamo che di fatto non è successo assolutamente nulla su bitcoin continuiamo a essere nella nostra zona laterale come ci aspettavamo in realtà ecco qua c'è stato un bel recupero rispetto il bottom siamo tornati intorno ad area 62 quasi 63k direi quindi più o meno in quest'area qui ottimo c'è stato poi il rifiuto il rigetto e ora siamo in quest'area qua possibile da quest'area vedere un ritorno su questi livelli assolutamente sì così come è possibile vedere un semplice storno e magari iniziare ad andare alla conquista nuovamente dei 70k o giù di lì diciamo che attualmente nel momento in cui sto registrando sono le 8 e 47 di mattina ci troviamo ad un 58k e qualcosa ora per essere relativamente tranquilli su bitcoin in queste fasi dovremmo stare sopra i 60k quindi verosimilmente in quest'area qui quando stiamo sotto diciamo che aumenta notevolmente lo scenario potenziale ribassista poi chiaramente bisogna andare a contestualizzare in base all'andamento generale del mercato diamo un'occhiata anche per curiosità agli etf come stanno andando l'ultimo periodo prendiamo dal primo agosto al 9 di agosto quindi diciamo tutto inizio agosto fino a dove siamo arrivati adesso chiaramente il bilancio lato ai shares quindi blackrock è sempre stato relativamente positivo a parte un paio di giorni dove non ci sono stati acquisti però vediamo gli ultimi giorni ci sono stati dei bei acquisti fidelity abbiamo avuto per lo più scarichi sparsi mi sembra di essere l'omino del meteo buonasera fino a sabato prossimo bel tempo temperature nella norma precipitazioni sparse da fidelity e qualcos'altro grayscale ovviamente immancabile sempre solo in dump o quasi vediamo è comunque il bilancio tendenzialmente stato relativamente equilibrato in realtà con qualche scarico in più come peso se andiamo a vedere il motivo per cui il prezzo è ancora relativamente basso questa è la situazione non vado a disturbare altri grafici perché comunque sia c'è poco da dire rispetto rispetto le ultime analisi c'è poco da dire vado a pescare giusto un sp500 per mostrarti anche qui come sta andando vediamo che anche sp500 si è fatto un pochino di scarico e qui per quelli che mi dicono è bitcoin non è correlato ai mercati e parliamone nel senso che magari quando i mercati salgono bitcoin sale di più ma ti assicuro e basta ti va a vedere gli storici quando il sp500 scende bitcoin scende punto cioè segue il fratellino è così funziona così ma perché perché si parla di asset relativamente speculativi quindi quando l'azionario che è relativamente speculativo perde di interesse viene tirata via liquidità quindi i prezzi scendono come succede sull'azionario succede a maggior ragione sulle cripto che sono anch'esse un ambito relativamente anzi dire ultra speculativo altcoin non ne parliamo quelle vengono giù che che proprio la manda giù ma bitcoin anche lui magari scende meno ma scende non è che non scende vediamo che c'è stato un po di riassorbimento sull'sp500 vediamo intanto la global liquidity che inizia a salire perché inizia a salire cosa è successo c'è stato il taglio dei tassi di interesse che diamine succede no succede che è partito il buyback program che detto così sembra una roba tipo da sconto del supermercato però è una roba del genere perché poi di fatto è così è un piano di iniezione sostanzialmente liquidità non è un qi ma di fatto quello che succede che aumenta la liquidità molto semplicemente quindi stiamo parlando effettivamente di iniezione di liquidità sui mercati ecco che in questo scenario io vedo ancora possibile un'aggressione di bitcoin degli 80k da qui come dicevo entro novembre perché dico questo ci sono due aspetti importanti da tenere in considerazione il primo è che comunque sta entrando liquidità il secondo è che abbiamo le elezioni e secondo me cercano di tenere sulla baracca fino alle elezioni poi dopo le elezioni chi se ne frega può esserci il terremoto chi mi segue o comunque ha visto un po di mie analisi passate sa che io penso che il 2025 non sia un anno così roseo per il mondo cripto almeno ma in generale in realtà perché vedo proprio l'ombra incombente di una recessione post elezioni secondo me si va giù pesanti però questo è una mia personale opinione mi sto preparando di conseguenza rimango comunque con un piedino dentro il mercato se poi si va giù bene ho liquidità per riacquistare se non si va giù chi se ne frega ho guadagnato meno ma almeno non ho perso ecco questa è la mia ottica quando mi muovo sui mercati in questa situazione qui abbiamo comunque un po di iniezione di liquidità abbiamo comunque l'euforia delle presidenziali quindi le elezioni e abbiamo anche a settembre un taglio confermato se non vado errato non più di 25 punti ma di 50 e teoricamente anche con un ulteriore taglio fatto ad ottobre quindi significa che si va a tagliare i tassi molto più velocemente rispetto a quella che era l'idea iniziale di taglio di tassi questo per il mercato usa questo mi fa supporre o meglio va a valorare la mia tesi secondo cui si cerca di tenere un assetto il più alto possibile durante le elezioni quindi parliamo di settembre ottobre settembre ottobre sono sempre stati dei mercati soprattutto ottobre novembre in realtà abbastanza interessanti con dei buoni pump avere questo taglio proprio lì settembre ottobre secondo me spara un po sul prezzo qui non parlo di un pump repentino in questo momento anche se potrebbe esserci su bitcoin così come su sp500 quindi mercato diciamo speculativo in generale potrebbe esserci potrebbe esserci a tutti gli effetti diciamo che potrebbe essere sicuramente molto interessante la situazione potremmo vedere quindi molto presto magari un ritorno a questi livelli io ti dico personalmente quello che faccio che non vuol dire che sia quello che devi fare tu né nessun altro ognuno deve avere la propria strategia personalmente in queste aree quindi quando il prezzo mi è sceso sui 50k o poco sotto io ho comprato ho comprato perché mi aspetto un ritorno agli 80k e secondo me a questo livello ovviamente non è che sono andato all in ho comprato delle quote che per me erano consone ogni volta che bitcoin sta sotto i 55k ogni volta che va sotto i 55k io qualcosa la ricompro la riaccumulo con dei piccoli pack però la vado a riaccumulare al di là dei miei piani d'accumulo consueti che ho vado ad aumentare un pochino le esposizioni in queste aree se va sotto i 50k come è successo qua io ne ho approfittato anche per andare ad accumulare qualche altcoin perché perché andare a accumulare qualche altcoin in queste fasi secondo me è stata una buona presa anche se poca roba contando che ero già in profitto ero già bello tranquillo sulle altcoin riutilizzare una parte dei profitti per acquistare in queste fasi con le alt estremamente scontate perché bitcoin che mi scende sotto i 50 mi porta delle altcoin estremamente scontate secondo me è stata una buona presa anche perché magari un bitcoin 80k a parte che passare dai 50k agli 80k è sicuramente buono e c'è del bel gain da fare sulle alta maggior ragione tra l'altro chi ha comprato alte in queste fasi probabilmente adesso sull'ultimo ordine si trova già relativamente in profitto sull'ultimo ordine chiaramente d'acquisto poi se le si acquistate ai top lì è un altro paio di maniche però tendenzialmente gli ultimi acquisti fatti dovrebbero essere più o meno in profitto questa era un pochino la panoramica la dominance tra l'altro di bitcoin è anche in crescita non è molto guardato molto sentito in queste fasi bitcoin non c'è ancora una volta tanto interesse poca roba siamo sempre livelli un po del bear market quindi bisogna aspettare anche quella quella fase lì come dicevo secondo me se bitcoin non supera abbondantemente i 70 e non va a quota 80 l'interesse sarà relativamente scarso da parte del retail quindi da parte della persona comune abbiamo però di fatto un po di cose interessanti per le mani abbiamo un po di eventi importanti eventi che generalmente portano liquidità sul mercato e questo ci fa sperare almeno in settembre ottobre novembre come due tre mesi sicuramente interessanti in ottica di prezzi da lì in poi molto probabilmente ci sarà poi tutto il tempo per parlarne andrò probabilmente a scaricare un pochino di cose e mi preparerò per il 2025 quindi attualmente sono ancora posizionato sono ancora molto rilassato approfitto dei cali per riaccumulare qualcosina e questo è tutto mi muovo nel modo più tranquillo più sereno possibile fammi sapere come ti stai muovendo tu qua sotto nei commenti cosa ne pensi se hai qualche domanda particolare scrivi sempre qua sotto nei commenti ti ricordo che ti lascio il link qua sotto delle due promo dedicate alla nostra community da parte di bing x che ringrazio tra l'altro per queste opportunità le trovi qua sotto nella descrizione ti lascio anche il codice per poter usufruire di questi bonus se ancora non ti sei iscritto al canale iscriviti cliccando questi concina qua che dovresti vedere iscriviti al canale comunque iscriviti al canale così rimarrai aggiornato ogni lunedì su quello che succede sul mercato e poi lungo la settimana con tanti spunti tante riflessioni tanti tutorial per ottenere il massimo nell'ambito degli investimenti ti ringrazio ancora per essere stato qui con me un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video